Un cordiale saluto a tutti voi, chiarissimi amici, radioscoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso Facebook, attraverso YouTube, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura di oggi dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Gazzettino e del Corriere delle Alpi, ma come sempre, prima di iniziare leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero di martedì 14 aprile 2020. Essere felici non significa che tutto deve essere perfetto, ma semplicemente che si è deciso di guardare oltre le imperfezioni. E con questa citazione addentriamoci nella lettura di oggi del Gazzettino e del Corriere delle Alpi, diamo subito uno sguardo alle due prime pagine. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno, ecco la prima pagina ovviamente sempre riferita ad un aggiornamento in merito all'emergenza coronavirus. Purtroppo una notizia tragica, catena di morti nella casa di riposo, tre anziane vittime del coronavirus in poche ore a Mel, uno dei figli, inspiegabile, andavano protette per tempo. E purtroppo un'altra tragedia apre questa prima pagina del Gazzettino di Belluno, cade nel pozzetto, muore 78enne ex barista di Domegge, Luigi Zamarco trovato dalla moglie inutile ogni soccorso. L'approfondimento lo troveremo a pagina 15. C'è il bollettino, 5 i decessi tra domenica e ieri e salgono i contagi, non si fermano i decessi di persone contagiate con i 5 morti che ci sono stati tra Pasqua e Pasquetta. Si arriva a 45 bellunesi che sono spirati con il coronavirus, 34 negli ospedali, 11 nelle case di riposo. In questi due giorni non si sono fermati neanche i positivi, sono 574 i casi attualmente positivi in provincia, 25 in più in 48 ore. Ma anche a fronte di notizie non positive fa sperare comunque il messaggio augurale di Buona Pasqua degli operatori dell'area Covid e dell'Ust numero 1 Dolomiti. Sempre dalla prima pagina scrive a Mattarella un canale Rai per ogni classe, ha scritto al Presidente della Repubblica e non solo un canale TV della Rai per ogni classe, la proposta di Doriano dalla Piazza di Quero, appassionato di storie e filmmaker, in particolare legato alla realizzazione del documentario i 5 giorni che salvarono l'Italia. Troveremo l'approfondimento a pagina 8. La foto di copertina invece è dedicata ai controlli di questo fine settimana di Pasqua. Rarissimi gli eccessi delle festività pasquali, il picnic con droga in quattro nei guai. I ragazzi attornati dai carabinieri nel bosco di Noal a Sedico. Questa è la fotografia di questi ragazzi che hanno fatto tutt'altro servizio, lo troveremo a pagina 6. Il sindaco, così Belluno, è cambiata in un mese l'intervista del Gazzettino al primo cittadino del Comune di Belluno. Questi richiami della prima pagina, passiamo adesso invece alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Prove per l'apertura generale, questo è il titolo principale. Passeggiate oltre i 200 metri. Da oggi più aziende in attività. La regione modifica la barriera degli spostamenti, ma si potrà girare solo con mascherine e guanti. Parte oggi la prima vera prova generale riapertura. Un cauto allentamento sui blocchi, alle passeggiate, alle attività commerciali. Abbinato però a provvedimenti più stringenti in materia di protezioni individuali. La foto di copertina, sette stagionali bloccati sul Faloria, non possono tornare a casa. L'articolo è a firma di Segafredo, lo troveremo a pagina 14. Sempre della prima pagina, la situazione sanitaria. Mel, tre morti in casa di riposo, due decessi a San Martino. Aggiornamento anche da parte del Corriere delle Alpi in merito al coronavirus. I controlli, strade vuote, pochi turisti, parti nel bosco con la droga e ancora il personaggio. Pasqua in corsia per Don Alessio, io infermiere in cerca di Dio. Iniziamo quindi a leggere il Corriere delle Alpi per poi passare al Gazzettino di Belluno. Una panoramica ci porta a pagina 2, Zaia. Spostamenti oltre i 200 metri, ma guanti e mascherine dovunque. Fino al 3 maggio, obbligo di protezioni anche per strada. È vietato uscire e lavorare con temperatura corporea oltre i 37 gradi e mezzo. Picnic all'aperto tra 25 aprile e 1 maggio solo in area domestica con i familiari residenti. L'articolo affirma di Filippo Tosato. Un cauto allentamento sul versante delle passeggiate e delle attività commerciali abbinato a provvedimenti più stringenti in materia di protezione individuali con l'obbligo di indossare mascherine e guanti non soltanto in luoghi di lavoro, negozi e trasporti locali, ma anche per strada. Anticipata nelle linee essenziali dal nostro giornale, la nuova ordinanza di Luca Zaia muove da una diagnosi preoccupata dell'andamento dell'epidemia. Permangono situazioni di contagio che impongono il mantenimento di misure di prevenzione anche più restrittive di quelle statali, scandita ad oggi da oltre 14.000 casi di tampone positivo, ma il numero reale degli infetti è largamente superiore ai quasi 18.000 persone in isolamento domiciliare. L'allarme globale, prove di riapertura, cosa si può e cosa non si può fare, ecco qui in sintesi quanto riportato dal Corriere delle Alpi. Se non ho la mascherina e i guanti, posso uscire di casa? Solo a condizione di avere bocca e naso, comunque adeguatamente coperti anche da una sciarpa o un foulard e di portare del gel igienizzante per le mani. Bisogna esserne dotati sia per circolare per strada che per entrare in tutti i negozi, nei mercati e negli uffici. Inoltre, per salire su qualsiasi metodo di trasporto pubblico, treno, autobus, vaporetto, un taxi. Tolto il limite dei 200 metri da casa per l'attività motoria, posso passeggiare e correre liberamente? No, permane l'obbligo di legge di fare attività motoria solo in prossimità della propria abitazione. 300 metri sono tollerabili, ha spiegato Zaia. Un chilometro no, è permesso sgranchirsi le gampe, non allenarsi per la maratona. Ora si può uscire di casa lì liberamente senza autocertificazione? No, ha chiarito il presidente Zaia. Restano le necessità legate al lavoro, alla spesa, all'assistenza di persone non autosufficienti, ad emergenze sanitarie o all'attività motoria come specificato. Resta il divieto di assembramenti e l'obbligo di mantenere la distanza sociale tra le persone 2 metri, non più uno, e resta l'obbligo dell'autocertificazione in tutti i casi. Posso uscire di casa in compagnia? No, si esce da soli, salvo non ci si debba portare a presso figli minori di 14 anni o disabili che non possono essere lasciati soli in casa. Cambia qualcosa nelle regole per negozi e mercati? La coda si allungherà perché da oggi nel Veneto ci dovranno essere almeno 2 metri di distanza fra i clienti anche all'interno dei negozi, confermate tutte le altre regole igieniche e di sicurezza. Librerie, cartollerie, negozi per bambini sono sempre aperti? No, la regione Veneto ha autorizzato l'apertura solo per due giorni la settimana, scelti dai gestori, comunque mai nei giorni festivi e pre-festivi. L'autorizzazione ad aprire è solo per i negozi esclusivamente dedicati, quindi con il corner bimbi all'interno di un negozio di abbigliamento per tutta l'età. Sono invece autorizzati i banchi che vendono abiti per bimbi all'interno dei mercati a patto rispettino le condizioni, le disposizioni su entrate e uscite controllate e distanze. O la febbre può uscire per fare la spesa, neanche per sogno che è malato deve assolutamente restare a casa. Se la polizia vi ferma e avete 37,5 di temperatura o più, sarete sanzionati. Se siete consapevoli di essere malati, rischiate la denuncia penale. Questa è in sintesi quindi il quanto firmato ieri dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che è entrato in vigore da oggi. Commercio più passi indietro che avanti. Parliamo ovviamente della provincia di Belluno, prove di riapertura nel nostro territorio. Dal Poz, direttore di Ascom, speravamo in un'apertura per l'abbigliamento e nella possibilità del takeaway per la ristorazione. Molti punti oscuri, ore di consultazioni con i tecnici regionali dopo l'ordinanza di Zaia. E la provincia, padrina, dobbiamo abituarci a indossare le mascherine. Il presidente di Palazzo Rossi ringrazia le forze dell'ordine per i controlli pasquali e ricorda che serve prudenza nelle attività lavorative. Sempre dalla provincia di Belluno aprono aziende, fabbriche e sindacati. Vigileremo nel mirino postazioni di lavoro, distanziamento sociale e i dispositivi protettivi. Notizia anche dalla Col di Retti. Pasqua positiva per Floro, Vivaisti, ma anche per agri-chef e gelatieri. Il periodo è ancora favorevole per piantare nuove piante, per sistemare giardini orte e siamo contenti anche per la possibilità di svolgere manutenzione del verde e attività di sevicoltura. Così col di Retti in merito all'ordinanza regionale che permette l'attività delle società florovivaistiche. Sempre dalla provincia di Belluno, misure complicate, serviva un unico ammortizzatore dedicato al Covid-19. Il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia spiega gli indenizzi per dipendenti, autonomi e professionisti. Quindi un approfondimento sempre in merito al coronavirus che trovate in questa edizione del Corriere delle Alpi. Scusate. Diamo invece uno sguardo ai dati aggiornati alla giornata di ieri. riferiti sempre al Covid-19, più pazienti dimessi perché ricoverati, zero nuovi contagi a Treviso e Rovigo. Si conferma il rallentamento dell'epidemia in Veneto, ancora elevato il numero delle vittime, 24 nell'arco di un giorno. Diamo uno sguardo quindi alla tabella riassuntiva che ci porta direttamente in provincia di Belluno. Il totale dei casi ammonta a 688 contagiati, 5 la variazione del numero dei casi nelle ultime 24 ore, 574 i casi attualmente positivi, 37 i deceduti, 77 i negativizzati virologici e 1.089 i soggetti in isolamento domiciliare. In totale quindi in Veneto sono 14.288 i casi con un aumento di 118 nelle ultime 24 ore, 10.710 i casi attualmente positivi, 899 purtroppo i deceduti, 2.679 i negativizzati virologici, 17.902 i soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i nostri ospedali, ospedale di Belluno sono 38 i pazienti in area non critica con l'aumento di un paziente nell'arco delle 24 ore, 9 in terapia intensiva con un aumento pari a zero 47 dimessi dal 21 febbraio, 22 i decessi dal 21 febbraio con un aumento di un decesso purtroppo nelle ultime 24 ore. Ospedale di Feltre, una paziente in area non critica con zero persone nelle ultime 24 ore entrate appunto nell'area non critica, zero pazienti in terapia intensiva con aumento pari a zero nelle ultime 24 ore, i dimessi sono 11 dal 21 febbraio, i decessi 5 dal 21 febbraio, zero fortunatamente nelle ultime 24 ore. In totale quindi negli ospedali del Veneto sono 1420 i pazienti in area non critica con un calo di un paziente nelle ultime 24 ore, 240 i pazienti in terapia intensiva con una diminuzione di 6 pazienti nelle ultime 24 ore, 1739 i pazienti dimessi dal 21 febbraio, 793 i deceduti dal 21 febbraio con un aumento di 24 deceduti nelle ultime 24 ore. Facciamo un focus anche in merito agli ospedali di comunità, ne abbiamo due in provincia di Belluno, ospedale di comunità di Belluno sono 14 pazienti presenti con un aumento pari a zero nelle ultime 24 ore, 10 dimessi dal 21 febbraio, 5 decessi dal 21 febbraio, zero decessi nelle ultime 24 ore. Ospedale di comunità di Agordo, 13 pazienti presenti con un calo di un paziente nelle ultime 24 ore, 3 dimessi dal 21 febbraio, un decesso dal 21 febbraio, fortunatamente zero decessi nelle ultime 24 ore. In totale in Veneto negli ospedali di comunità sono 154 i pazienti presenti con un calo di un paziente nelle ultime 24 ore, 57 dimessi, 17 i decessi dal 21 febbraio 2002. Fortunatamente non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Continuiamo con il Corriere delle Alpi, minore accesso alle cure e tanta paura. A marzo i morti sono cresciuti del 75%. Studio dell'Università di Padova sui dati istat raccolti su un campione di comuni veneti in tre settimane di epidemia. La variazione percentuale per classi di età e provincia, diamo uno sguardo alla provincia di Belluno, ovviamente il picco più alto l'abbiamo avuto per la fascia d'età che va dai 75 agli 84 anni e abbiamo anche la presenza della fascia d'età tra i 65 e i 74 anni per terminare con la fascia sopra gli 85 anni. Quindi per quanto riguarda la provincia di Belluno e facciamo un confronto anche con la provincia di Verona, il maggior numero delle vittime nel periodo dal 1 al 21 febbraio rispetto al 1 al 21 febbraio del 2020 l'aumento più forte per Belluno e Verona è stato quello della fascia d'età dai 75 agli 84 anni. La media regionale invece vede sempre la fascia più colpita, quella dai 75 agli 84 anni, seguita immediatamente dalla fascia d'età sopra gli 85 anni per poi passare a quella dai 65 ai 75 anni. E purtroppo parlando di deceduti a causa del coronavirus, lo avete sentito anche dai titoli dalla prima pagina, due morti in ospedale, tre in casa di riposo. Questo va a quanto monta il numero di deceduti in provincia di Belluno nelle ultime 48 ore. Pesante il bilancio delle festività pasquali al San Martino di Belluno nella struttura residenziale per anziani. Tra sabato e domenica pesante l'aumento dei bellunesi contagiati con 29 positivi covid. Ed ecco qui purtroppo le tre anziane che sono decedute, le tre ospite della casa di riposo di Melle di Borgo Valbelluna aspirate tra domenica e ieri dall'alto in senso orario. Maria Lorenzette di 84 anni, Teresina Battiston di 92 anni, Luigia Feltrine di 91 anni. A sinistra l'equip del reparto di malattie infettive. E a Pedavena due lutti alla padre Colbe il tampone non era stato fatto completato al test complessivo a personale e anziani anche della casa per religiosi la maggioranza ha un'età tra 90 e 100 anni. Feltre e Cesio tengono duro grazie al personale mobilitato non è solo un caso o la fortuna che nelle case di riposo di Feltre e Cesio Maggiore non si sia diffuso il virus o comunque non siano stati documentati pazienti covid positivi. E la situazione sanitaria nel Bellonese è con l'approfondimento a firma di Paola Dallanese l'usl numero uno vara un piano sanitario ad hoc per l'emergenza nelle strutture per anziani varato il regolamento per accettare pazienti provenienti dall'ospedale per la gestione di chi risulta positivo e delle salme. Pneumologia è tornata a covid free una immunità sembra possibile parla Stefano Calabro primario a Feltre emergenza superata grazie alla professionalità di medici infermieri e personale questa è un'intervista del Corriere al primario di pneumologia dell'ospedale di Feltre incoraggianti i riscontri finora avuti con il Tocili Mabuz sulle citochine e adesso invece parliamo della situazione dei controlli che si sono succeduti nelle ultime due giornate in provincia di Belluno in sette bloccati a quota 2.123 metri sono gli stagionali del rifugio Faloria i lavoratori stanno tutti bene da un giorno all'altro tutto è cambiato ma la società non ci ha fatto mancare niente la nostra speranza è di tornare quassù dalla prossima estate ma è tutto in alto mare e ancora altre testimonianze Riva Monte da Genova a Pedandola in paese siamo otto una famiglia ligure sorpresa nel borgo dell'emergenza ma qui si vive bene trasferirsi stiamo valutando l'idea e ancora la quarantena in un borgo con due abitanti a Colceverer di Val di Zoldo altra testimonianza in questo caso di Alberto Bonollo che vediamo in questa fotografia Pasqua con tanti agenti e poca gente i belonesi hanno rispettato le regole domenica sono state controllate soltanto 745 persone su tutta la viabilità provinciale e ci sono state 25 sanzioni l'articolo firma di Gigi Sosso Pasqua con l'auto in garage il temuto esodo verso le località di villeggiatura non c'è stato prima e dopo il pranzo dall'antipasto alla Colomba seberrebbe che i belonesi non si siano mossi da casa o quasi c'erano 870 pattuglie sulle strade della provincia per un totale di 1700 tra carabinieri poliziotti finanzieri e le persone controllate sono state 745 solo lunedì e giovedì il numero era stato inferiore rispettivamente 701 e 717 25 sono state sanzionate perché non avevano un buon motivo per essere in giro e dovranno pagare l'ammenda da 300 a 4000 euro prevista dal decreto Conte del 25 marzo nessuna denuncia la montagna il regno del silenzio nessun arrivo di turisti da fuori i sindaci soddisfatti dei controlli fatti nel weekend qualcuno sarà sfuggito ma parliamo soltanto di casi isolati l'articolo a firma di Alessia Forzin Giampietro Ghedina sindaco della perla delle Dolomiti Cortina era deserta Grones sindaco del comune di Livina Longo del Col di Lana non passa una macchina da ore e il fine settimana della diocesi di Beluno Feltro una Pasqua in corsia per Don Strapazzoni io infermiere perché sono cercatore di Dio il paroco di Castellavazzo i nostri pazienti li accompagniamo all'altra vita tenendoli per mano come fossero nostro papà e nostra mamma questa è un'intervista sempre del Corriere delle Alpi passiamo adesso alle altre notizie che riguardano la provincia di Belluno con perale e ton a lezione di arte le opere dei Fulcis raccontate sui social i capolavori sono illustrati seguendo le lettere dell'alfabeto accompagniamo la quarantena anche con la cultura illustrati i capolavori di Ricci Brustolon Caffi spazio anche alla porta di Santa Maria dei Battuti in questa foto per chi ti sta guardando da Facebook o Youtube il conservatore Denis Tonis che illustra un'opera di Bartolomeo Montagna notizia di spalla passeggiati virtuali fra passato e presente con Marta Zalini nel 1690 in fondo a via Mezzaterra c'era una chiesa e fra il municipio e la prefettura si poteva incontrare una fontana elementi di un passato che Marta Zalini guida turistica della provincia di Belluno sta raccontando sulla sua pagina Facebook per accompagnare queste giornate di quarantena ed ecco l'approfondimento del Corriere delle Alpi custodi del territorio ai boschi del castagno la natura è protagonista Eugenio Frigherio e Isabella Rinaldi che vediamo in questa fotografia perché ci sta guardando da Facebook o Youtube sono arrivati in Val Morel nel 2003 i due hanno messo in piedi un'azienda fondata su più rigidi principi dell'ecologia la produzione la chicca il fagiolo bortolotto bala rossa dal 2011 l'azienda è certificata biologica la produzione è varia e copre tutte le stagioni cavoli broccoli verze cardi radicchio rape mele sono solo alcuni dei prodotti nessuna intromissione chimica solo pazienza e costanza e l'età medicare biologiche per concimare non mancano le chicche come il fagiolo bortolotto autoctono scusate di tipo bala rossa e i gialletti presidio slow food immancabile le uova mondo del volontariato l'obiettivo della lilt vogliamo riattivare i controlli dei nei la neopresidente dal mass e le iniziative del sodalizio donati i kit di odio di oliva alla mensa dei poveri e al banco brucia un televisore la sera di pasqua paura in un'abitazione i vigili del fuoco sono intervenuti a forno di zoldo nella zona del ristorante con campeggio i danni si sono limitati all'elettro domestico fortunatamente lutto invece a sospirolo la comunità piange Berto Ceol gelatiere amico di tutti un cuore buono non batte più è morto il giorno di pasqua a 73 anni fedele Roberto Ceol conosciuto da tutti come Berto e mai come in questo caso la frase che si legge sul necrologio racconta alla perfezione un personaggio a cui tutti hanno voluto bene e che ha dato molto alla comunità di sospirolo perché Berto era residente a paderno di San Gregorio nelle Alpi ma è sospirolo che ha legato gran parte della sua vita Cenceniga parcheggio di Martini e strada il comune progetta interventi il sindaco pensa previo all'ok di Roma di investire così i fondi post vaio 2020 salvo rinvii si tratta di interventi che andranno appaltati entro la fine di settembre la Domegie purtroppo un lutto anche nel comune di Domegie si sente male cade in un pozzo e muore Luigino Zamarco ha perso la vita ieri pomeriggio mentre stava facendo una manutenzione nel giardino di casa l'uomo è deceduto per un arresto cardiaco e non sono bastati tutti i tentativi di rianimarlo e per chi si sta guardando da Facebook o Youtube uno scatto del pozzetto in cui Luigi Zamarco che Luigi Zamarco stava ripulendo ieri pomeriggio altre notizie flash è partito un bonifico da 1100 euro l'ospedale di Camerino riceve aiuti dal Cadore sempre da Pieve di Cadore l'anziana uscita dalla casa di riposo ha lasciato l'ospedale altre lutti aveva 70 anni è morto Luciano Darin presidente del coro Comelico Agordo dopo una lunga malattia è scomparso scusate Filaferro uno dei tanti stimati periti minerari usciti dal Follador siamo a Feltre medico politico e manager a 70 anni se n'è andato Zaiotti era malato da tempo nel 1993 la candidatura al Colle delle Capre contro Vaccari ricordo di Parenzine è stato uno stimato neurologo e un cittadino impegnato sensibile ai bisogni di chi è in difficoltà ha guidato l'azienda servizi alla persona è morto domenica all'età di 70 anni siamo sempre a Feltre intorno a Cimarmi e Portali un corposo restauro alla chiesa di San Giacomo che vediamo in queste due immagini perché ci sta guardando da Facebook YouTube i lavori nella frazione di Tomo Unione Montana Feltrina ammazzata sul turismo meno 30.000 presenze la stima delle perdite si riferisce al periodo da marzo a giugno Scopelle ma la stagione si può ancora salvare questa riflessione del sidaco del comune di Seren del Grappa prima di passare allo sport leggiamo ovviamente anche il gazzettino di Belluno tampone tardivo la casa di riposo non le ha protette così apre l'interno a pagina 2 il gazzettino di Belluno la testimonianza di Maurizio Comiotto che ha perso la mamma rimasta infetta è una delle tre anziane decedute ieri nel giro di poche ore nella RSA di Mel tre decessi appunto in una stessa casa di riposo l'ultima volta che l'ho vista era 40 giorni fa il 17 marzo stava già male ad aprire la conferma del virus aveva tanta paura di questa malattia lei e le altre ospiti non sono state protette un mistero quello che è successo questo il pensiero di uno dei figli delle vittime 5 morti in due giorni e crescono ancora i contagi il picco non è stato raggiunto il bollettino di ieri parla di 574 case attuali di coronavirus e di 688 totali dal 21 febbraio scorso 77 sono i guariti è subito creata l'area covid e abbiamo limitato i contagi Stefano Calabro direttore della pneumologia di Felter per primo si è trovato in prima linea contro il virus racconta quelle giornate al Santa Maria del Prato intervista che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi è sempre in merito al coronavirus così la pandemia ha cambiato la città in pochi giorni il sindaco Jacopo Massaro traccia il bilancio di oltre un mese di lockdown maestre d'asilo impiegate al centralino in casa di riposo i saloni per l'isolamento intervista sempre fatta dal Gazzettino di Verona firma di Andrea Zambenedetti ora bisogna sburocratizzare togliere i vincoli e permettere di semplificare la vita ai cittadini solidarietà alimentare abbiamo avuto 800 domande 10 volte rispetto in più rispetto al solito sempre questo quanto detto dal sindaco del comune di Belluno Jacopo Massaro l'appello di un altro primo cittadino siamo a Seren del Grappa a Scopel sul fronte turismo è importante farsi trovare già pronti tra marzo e giugno ci sono state almeno 30.000 presenze in meno ma per ora non tutto è perduto rivedremo radicalmente le nostre abitudini anche per le vacanze riscoprendo prodotti a chilometro zero troppi decessi serve prudenza la denuncia della FIOM 19.000 morti non sono bastati a far capire la gravità dito puntato anche contro prefetto Ezaia ci aspettavamo più impegno picnica a base di droga nei boschi smascherati quattro ventenni nei guai sono finiti nella rete dei controlli di Pasqua maxi multa di 10.000 euro i ragazzi erano già erano tra la vegetazione in tenda annuale sono stati stanati con l'elicottero dei carabinieri picnica a base di droga nel bosco dove bivaccavano da giorni nei guai quattro giovani che hanno collezionato un totale che supera i 10.000 euro oltre ad essere stati segnalati come consumatori sono quattro delle poche decine di sanzioni emesse in questa Pasqua nell'ambito dei controlli scattati per i furbetti delle regole anticontagio un piano straordinario varato dalla prefettura che prevedeva 870 pattuglie delle forze dell'ordine su strade cielo e sentieri in 1700 uomini numeri che hanno sortito il loro effetto infatti da un primo bilancio sembra che i furbetti siano rimasti a casa in particolare quelli delle seconde abitazioni il vescovo della diocese di Beluno Feltre Marangoni nel cielo terzo si sta accendendo una luce durante l'omelia pasquale e il religioso ha tracciato un parallelo con questi giorni la curiosità a ristoranti a domicilio è successo oltre le attese c'è chi ha dovuto chiudere le ordinazioni e chi ha portato i pranzi fino a Bassano il servizio delivery per qualcuno diventa anche una nuova opportunità ed ecco uno scatto di Carolina Darold della latteria di Tisoi la consegna del gelato domicilio non ha concesso tregua a chi ha offerto il servizio l'appassionato di storia a Mattarella canali RAI dedicati agli studenti pecchi inviata alle istituzioni così fanno in Gran Bretagna la scuola arriva dai canali della BBC ha scritto al Presidente della Repubblica al Capo del Governo ai Presidenti dei due rami del Parlamento al Ministro della Pubblica Istruzione e Regione un canale televisivo della RAI per ogni classe la proposta di Doriano dalla Piazza di Quero appassionato di storie e filmmaker in particolare legato alla realizzazione del documentario i 5 giorni che salvarono l'Italia il suo appello gira anche nella web tv Valdo TV così fanno anche in Gran Bretagna sottolinea dalla piazza la scuola arriva dai canali della BBC ho inviato l'appello a tutti i soggetti istituzionali interessati precisa e in pec per non sbagliare sono un semplice cittadino la cui risposta a qualunque risposta sarebbe già un importante atto di attenzione ed eccolo qui Doriano dalla Piazza l'autore della proposta che ha le RAI che ha inviato le più alte cariche politiche del nostro paese oltre il contagio l'armonico su Facebook testimonianze quindi di belunesi le note lamonesi spezzano routine colmando i silenzi e ancora strade pulite un'autobotta e fai da te ora lava borgate e frazioni educatrici online l'asilo di Polpetti entra nelle case dei genitori l'ha proposta uscirne in tele con l'allenatore personalizzato continuiamo con la lettura del gazzettino di Belluno altre notizie riferite al territorio bellunese manutenzioni a tappeto su richiesta dei cittadini siamo sempre nel capoluogo bellunese l'assessore incontri con la gente laddove c'erano problemi da risolvere messi in campo sei operai comunali si parte dall'area esterna dei magazzini notizie anche dalla Val di Zoldio in questa notizia di spalle no al consiglio via web tutti in aula distanziati la seduta convocata nella più spaziosa sala Rizzardini con vocazione per venerdì a porte chiuse si parlerà anche del controverso caso spesa addio al geometra politico era un socialista guerrito Fiorenzo Boni aveva 79 anni e è stato in consiglio come minoranza quando il sindaco era Sergio Decian da Borgo Valbelluna parte l'operazione Varianti Verdi arriva in consiglio la riclassificazione delle aree edificabili non tutti i terreni potranno essere riclassificati agricoli ci sono criteri da rispettare domande entro il 20 di aprile tutto questo è stato portato da Martino Bernano assessore all'urbanistica Feltre addio al medico impegnato anche il gazzettino dedica spazio alla scomparsa di Giuseppe Zaiotti 70 anni che si è spento la mattina di Pasqua all'ospice di Feltre guidò per tre anni l'azienda Feltrina e nel 93 si candidò alla carica di sindaco Notizia di Spalla ci porta Falcade promo Falcade in aste di ripartenza dai social partito un messaggio augurale a tutti i turisti affezionati e aperti due siti per cominciare la promozione va a pulire il pozzetto cade e muore approfondimento anche da parte del gazzettino di Belluno per la morte di Luigino Zamarco 78 anni di Domeggia che è stato trovato senza vita riverso nella cavità dietro casa ieri pomeriggio ecco qui il tombino dove è stato trovato purtroppo il corpo di Luigino Zamarco Ponte nelle Alpi piano asfaltature messi 60.000 euro faremo più qualità che chilometri questo è quanto detto dall'assessore Marta Vielle vogliamo che i lavori possono durare nel tempo notizia anche da Santo Stefano di Cadore addio al tenore che ha fatto grande il coro comelico Luciano Darin aveva 69 anni e per quasi 4 decenni è stato presidente del Sodalizio Cortina il consiglio torna online dopo 4 mesi di stop alla data dell'attesa Sise ancora da fissare ma c'è il web manuale Cortina d'ampezzo ancora a rischio il ponte di Crignes le spallette stanno cedendo i recenti rilievi tecnici hanno accertato il continuo e progressivo deterioramento al parere tecnico urgente determinare scusate lo stato di compressione della struttura e vedete qui proprio si vedono palesemente i danni di questo ponte sempre da Cortina è stata riaperta la super colletta da 90.000 euro albergatori e turisti hanno dato un aiuto a ospedali e soccorsi siamo convinti di avere impiegato nel modo migliore tutte le risorse raccolte grazie a tanti contributi questa è la riflessione della presidente dell'associazione albergatori Roberta Alvera siamo arrivati allo sport belunese la vasca di Lambo rischia danni seri seconda tappa del nostro viaggio tra i gestori delle piscine della provincia Fabio Gasperindi sportivamente comunque noi manteniamo l'ottimismo ancora sport stop del volley giusto ma modalità sbagliata annullare le classifiche una scelta illogica i presidenti di Feltre sedi colimana spesso criticano la FIPAV e sono molto preoccupati per il futuro delle società leggiamo adesso la parte le pagine culturali del gazzettino di Belluno vediamo ecco un artista bellunese l'agente Marco l'attore bellunese De Martino Modonado torna a recitare per Antonio Albanese nella seconda serie tv in onda sabato su Rai 3 i topi interpreta un polizzotto ed ecco qui che vediamo appunto Marco De Martino con Antonio Albanese in una pausa di registrazione della serie che inizierà sabato prossimo su Rai 3 e ancora a luni del regnere ricevuti online dallo scienziato il ricercatore Paolo Vatta ha risposto alle domande degli studenti ancora dall'agenda del gazzettino lo sbarco sul web e le manifestazioni culturali letterarie in programma cortina traslocano armi e bagagli in rete e scoprono nuovi insospettabili orizzonti di audience la saga poetica di Call of an Art e i dubbi esistenziali di Montale e Borgelletti da Remo Girone due giganti del novecento per farci compagnia nel tempo pasquale grazie alla voce di Remo Girone passiamo adesso alle previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani prima di salutarci cielo sereno a tratti poco nuvoloso precipitazioni assenti venti in quota nelle primissime ore moderati e poi deboli con direzione fino alle ore centrali da nord-est e poi variabile sulla costa da prima moderati dei quadranti orientali infine deboli regime di brezza altrove deboli con direzione variabile mare nelle primissime ore mosso poco mosso temperature minime generalmente in diminuzione salvo locale stazionarietà in quota per le massime prevarranno in quota in aumento nelle valli contenute variabili di carattere locale in pianura una moderata diminuzione è davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana a tutti voi un buon proseguimento di giornata e mi raccomando restate ancora a casa